Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, oltre 200 le persone identificate e un arresto e il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Arezzo durante l'ultima edizione della Fiera del Mestolo. In manette è finito un quarantenne con l'accusa di furto aggravato. L'uomo già noto per reati contro il patrimonio si era introdotto all'interno di un negozio e approfittando della distrazione di una cliente le aveva sottratto uno smartphone. I carabinieri che in quel momento si trovavano nei pressi dell'esercizio commerciale lo hanno notato allontanarsi in fretta e furia. Dopo averlo inseguito lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione trovato in possesso appunto della refurtiva. Gli agenti di polizia del commissariato di Sansepolcro hanno invece identificato e denunciato in stato di libertà tre cittadini rumeni maggiorenni senza fissa dimora, responsabili della vendita di merce contraffatta. In particolare telefoni iPhone 14 Pro Max in apparenza originali ma poi risultati essere appunto contraffatti. Torniamo a parlare del problema dei cattivi odori che interessa la frazione di Sanzeno ma non solo, tante altre sono le segnalazioni che arrivano appunto dalle frazioni del comune di Arezzo. Adesso il comitato aretino Stop Puzzo nato proprio in seguito a questa problematica ha presentato un esposto. Convocato il consiglio comunale aperto sui cattivi odori segnalati da tempo da varie zone di Arezzo, da Sanzeno alle Poggiola, da Chiani a Battifolle e non solo. A richiederlo era stata la minoranza. Il presidente del consiglio comunale Luca Stella ha così individuato la data di giovedì 21 settembre alle ore 18. Per gli interventi è gradita la prenotazione all'indirizzo email consigliocomunale.arezzo.it entro lunedì 18 settembre. Intanto, martedì sera, al circolo delle Poggiola, frazione dalla quale da oltre un anno arrivano segnalazioni per le ondate di odori molesti, si è svolta la quarta assemblea pubblica organizzata dal comitato Stop Puzzo. Lo stesso comitato ha anche annunciato di aver depositato un esposto contro i gnoti alla procura di Arezzo, allegando numerosi documenti tra i quali le ordinanze del comune e le risposte istituzionali ricevute dai cittadini. L'assemblea pubblica, infine, è stata anche l'occasione per organizzare la presenza e gli interventi dei cittadini nel consiglio comunale aperto, al quale il comitato vuol far precedere una manifestazione proprio sotto le finestre di Palazzo Cavallo, in Piazza della Libertà. E ieri si è tenuta proprio la riunione che era stata peraltro annunciata anche dal nostro telegiornale del comitato. Oltre 100 i partecipanti durante la riunione si è parlato anche del prossimo consiglio comunale aperto su questa problematica che si terrà il 21 di settembre alle 18. E' arrivata adesso anche l'ufficialità da parte del presidente del consiglio comunale Luca Stella, che invita tutti i cittadini che vorranno partecipare e prendere parola a chiedere appunto di poterlo fare indirizzando un'e-mail a consigliocomunale.arezzo.it entro il prossimo 18 settembre. Torniamo purtroppo, aggiungiamo noi a parlare di Covid perché sta tornando, la malattia sta tornando di nuovo a diffondersi e allora ci sono dei protocolli specifici che sono stati attivati presso l'ospedale San Donato di Arezzo per proteggere soprattutto i pazienti più fragili. Chiara Sadotti Trattamento con l'antivirale per tutti i pazienti fragili che arrivano in ospedale sono positivi al Covid. Un nuovo protocollo che mira da un lato a curare le persone ma dall'altro ad alleggerire il peso sulle strutture della presenza di malati da isolare in bolla Covid. Quando i pazienti accedono in pronto soccorso e dopo la valutazione per l'appunto di pronto soccorso si decide di ricoverarli in ospedale viene effettuato il tampone, viene chiamata la consulenza infettivologica nel caso in cui il paziente risulti positivo al Covid. Poi è l'infettivologo sulla base delle caratteristiche del paziente anche se il paziente è asintomatico ma può avere delle comorbosità importanti a definire l'opportunità di somministrare una terapia. Due gli antivirali sul mercato in grado di contrastare il Covid se vengono dati precocemente nel giro di 4-5 giorni sono in grado di eliminare anche la contagiosità. È vero che i pazienti positivi che non hanno una sintomatologia Covid correlata ormai da mesi li gestiamo in una situazione di isolamento funzionale in camere singole proprio per non gravare su una bolla Covid. Il virus sta tornando a circolare anche se con numeri ancora non allarmanti. La situazione al momento è abbastanza stabile, è chiaro che con il progredire delle settimane, con la stagione autunnale e invernale che è alle porte, la possibilità di aumentare la circolazione del virus e quindi anche il contagio è evidente. Le regole d'accesso in ospedale rimangono invece quelle dello scorso maggio. Indossare la mascherina ogni volta che ci si reca in un ambiente in cui il contatto con altri utenti potenzialmente fragili li potrebbe esporre ad un rischio di contagio. Quindi nelle sale d'attesa, negli ambulatori, nelle degenze si deve sempre indossare la mascherina. Incidente stradale oggi alle 15.20 lungo la provinciale Sette Ponti nel comune di Arezzo. Ferita una donna di 86 anni trasportata in codice giallo all'ospedale San Donato. E sul posto la misericordia di Subbiano e di Arezzo, i vigili del fuoco e per i rilevi di legge la polizia municipale. Torniamo a parlare del furto ai danni della scuola Margaritone di Arezzo. Ve ne abbiamo parlato circa una settimana fa. Il furto risale infatti allo scorso 6 settembre. Durante la notte i malviventi si erano introdotti all'interno della scuola. Avevano portato via tablet e personal computer per un valore di circa 70 mila euro. Un danno davvero importante non solo sotto il profilo economico ma anche perché purtroppo questo non consente alla scuola di avviare importanti progetti. La preside Palladino ha dato notizia del fatto che è stata avviata una raccolta fondi. Le donazioni potranno essere effettuate in dei box specifici in tutte le sedi del plesso. Come sappiamo la Margaritone è un comprensivo e inoltre chi volesse effettuare una donazione tramite un bonifico può farlo sul conto corrente della scuola che ovviamente si trova sul loro sito internet. Poi a Natale probabilmente un evento per ringraziare pubblicamente la comunità che si sta mobilitando in queste ore per aiutare la scuola vittima del furto. Parliamo adesso invece di caccia più sicurezza grazie ad un protocollo tra le associazioni che appunto riuniscono i cacciatori e la ASL Toscana Sud-Est. Capita frequentemente che in montagna ci si possa far male non solo durante le battute di caccia ma i colleghi amici dell'ATC comunque sia ci hanno favorito dandoci una grossa mano per cercare di essere sempre più vicini all'utente anche in posti impervi o scarsamente antropizzati. Più sicurezza tra i boschi e le montagne retine per chi va a caccia ma non solo. Il progetto Primo Soccorso Negli Incidenti di Caccia nasce dalla volontà di dare una risposta immediata ad eventuali malori o incidenti durante le battute di caccia al cinghiale. L'ASL assieme ai professionisti del 118 ha così costruito un percorso di formazione assieme alle due associazioni territoriali di caccia presenti nel retino. Siamo riusciti a ingaggiare due cacciatori per ogni squadra di caccia al cinghiale della provincia di Arezzo e siamo riusciti a formare sia per la reanimazione cardiopolmonare di base sia per quanto riguarda lo Stop the Bleed che è una campagna mondiale per lo stop ai sanguinamenti. Manovre fondamentali che speriamo che tutta la popolazione un giorno sia formata a questo soprattutto la reanimazione e il blocco delle emorragie perché sappiamo quanto è importante. 73 le squadre di caccia al cinghiale in provincia di Arezzo per un totale di 2650 cacciatori. Sono luoghi che sono frequentati soprattutto da noi cacciatori però in questo momento sono integrati da gente che fa trekking, cercatori di funghi. Speriamo di non utilizzare mai questa iniziativa che abbiamo collaborato però succede, può succedere, certo. È un bene per tutta la cittadinanza, non è una cosa esclusivamente che riguarda noi cacciatori. Alle squadre è stato infine chiesto di individuare punti strategici per poter effettuare il rendezvous con i mezzi di terra e con il servizio di soccorso nel momento di un'emergenza. Il collega che si trova in postazione nel momento in cui riceve la richiesta di soccorso può distinguere quali sono i punti dove va a atterrare l'elicottero e dove non può atterrare oppure i punti dove si può accedere con le ambulanze e con i mezzi 4x4 e dove i puntini rossi e dove non ci si può arrivare con il mezzo di terra. Ogni punto è geolocalizzato con il nominativo sia del luogo sia della squadra di caccia che ha censito il posto. Un danno, un vero e proprio atto vandalico, quello che denuncia l'associazione comunità di Tegoleto attraverso i suoi profili social. Siamo nel comune di Civitella in Valdichiana, appunto nella frazione di Tegoleto in via Molinara. In queste foto vedete la panchina rossa contro la violenza sulle donne che è stata sradicata e poi lasciata praticamente in una sede appunto che non era la sua. Esattamente un anno fa la donazione era stata appunto effettuata dall'associazione alla comunità. Abbiamo già segnalato, dicono dall'associazione, quanto accaduto agli uffici comunali per chiedere il ripristino nella sua sede originale e segnalato il tutto anche alle forze dell'ordine per poi sporgere denuncia. Andiamo a parlare di economia. Le esportazioni in provincia di Arezzo sulla base dei dati provvisori pubblicati dall'Istat si sono attestate nel primo semestre del 2023 ad oltre 5,4 miliardi di euro con un più 2,1%. La nostra Camera di Commercio, afferma il presidente Massimo Guasconi, se al dato a retino si somma anche quello relativo a Siena, rappresenta quasi il 27% dell'export regionale. Come sempre i metalli preziosi sono la principale voce dell'export e hanno registrato una crescita dell'8,5%. Si chiama Lettere alla vita, l'ultima fatica letteraria della giornalista Aretina Martina Naccarato. Sentiamo. Lettere alla vita è il titolo del libro di Martina Naccarato. Alla sua quarta fatica letteraria, un insieme di bravi prose poetiche tra spunti leopardiani ma anche ottimismo e positività. E' una serie di interrogativi ad oggi senza risposta però credo che siano le parole di tanti di noi, quelle che forse io ho avuto il coraggio di scrivere e tante altre persone. appunto una serie di interrogativi esistenziali che ad oggi non hanno ancora trovato risposta però che spero possano dare un po' di conforto a tutti coloro che leggono le pagine di questo libro. Un inno alla vita, un invito a cercare il bello dell'esistenza e del quotidiano nonostante le numerose sfide che essa ci costringe ad affrontare. La forza e il coraggio di andare incontro a queste domande me la dà sicuramente il pubblico, tutte le persone che nelle giornate come oggi e non solo mi sono accanto sempre e comunque nonostante tutto. Un libro presentato all'auditorium Maldoducci, un evento organizzato da Rezzo 2020 per cambiare a sinistra. Torna per il terzo anno consecutivo l'esperienza del corso di formazione barman inclusivo. Sarà portato avanti come sempre da Andrea Manetti in collaborazione con CESCOT Confesercenti e si terrà proprio nel bar di Manetti a Terranova Bracciolini e sarà riservato alle persone con disabilità. Le lezioni inizieranno martedì 3 ottobre e proseguiranno per due mesi con cadenza settimanale. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al prossimo 30 di settembre. E adesso con il prossimo servizio invece vi parliamo di una serata davvero particolare dedicata alla nostra chimera. Una serata per far rivivere la chimera e per poter immergersi in una cerimonia evocativa. Ad Arezzo un evento dedicato al misterioso manufatto, simbolo della città e della storia aretina, scoperta durante gli scavi del 1553. Abbiamo voluto dare vita veramente alla chimera e a quella che poteva essere una cerimonia evocativa fatta nel luogo dove la chimera poteva essere residente. Un luogo dove la sera all'imbrunire la magia del fuoco e dei profumi, veramente il mito si trasforma in realtà. Grazie al libro Chimera com'era il mito svelato sarebbe stato ricostruito l'aspetto originale dell'opera risalendo a quando nel IV secolo a.C. fu collocata come dono votivo all'interno di un tempio o di un altro spazio riservato al culto. Rappresenta un leone asiatico, quindi un leone ben più snello di quello africano. È fatta con una tecnica meravigliosa e con dei particolari che fanno scoprire la capacità di questo popolo, sì assieme anche a maestranze elleniche, ma di fare opere veramente fantastiche. Ad accompagnare la serata anche una lira ricostruita fedelmente sulla base della pittura vascolare greca. Il carapace è di Testugine, che è la tartaruga di terra, le corde sono di budello, la pelle per la cassa armonica è di somaro e le corna sono di antilope. Dato che tutti questi elementi sono quelli che c'erano allora, il suono di questo strumento è grosso modo quello che era il suono della lira degli antichi grefi. Musica, profumi ma anche sapori di tanti secoli fa. Ho riprodotto come potevano fare il vino gli etruschi 2700 anni fa. Il vino da quando è nato l'uomo, 8000 anni fa, si fa con l'uva spremuta, per cui non c'è niente di nuovo, ma la profumazione, i sapori della coibentazione delle anfore trasferiscono al vino dei profumi e delle sensazioni totalmente differenti al palato di oggi. Per cui si può immergere, chiudendo gli occhi, come poteva essere un vino di 2700 anni fa. Il Museo della Vite e del Vino di Cigiano, frazione del comune di Civitella in Valdichiana, sarà intitolato allo storico Carlo Starnazzi, originario proprio di Cigiano, scomparso nel 2007. L'amministrazione comunale, spiega il sindaco Andrea Tavarnesi in una nota, ha accolto la proposta della Proloco di Cigiano per l'intitolazione del museo al professor Starnazzi, che fu storico, di grande spessore, studioso di Leonardo da Vinci e insegnito della medaglia d'oro del Presidente della Repubblica Italiana come benemerito della Scuola della Cultura e dell'Arte. Ricordiamo che fu proprio lui per primo ad attribuire, appunto, grazie ai suoi studi, il ponte buriano come il ponte della Gioconda. La proposta, dice ancora il sindaco, è stata ritenuta meritevole di approvazione, sia per lo stretto legame del professor Starnazzi con la frazione di Cigiano, che appunto gli ha dato i Natali, sia per onorare la sua memoria e la sua opera di grande storico e studioso. La cerimoglia di intitolazione si svolgerà sabato 16 settembre al 18, proprio presso il Museo della Vita e dell'Olio di Cigiano, dove sta per prendere il via l'edizione 2023 della Festa dell'Uva, del Vino e dell'Olio. Presentata la seconda edizione di Zenzero Fest, e allora sentiamo quali saranno gli appuntamenti. Nuove attesissime uscite, originali esordi letterari, storie inattese dei grandi personaggi. È un viaggio nel cinema con un incontro dedicato a Troisi e una discesa in campo con un libro dedicato a Vialli. È tutto pronto per la seconda edizione di Zenzero Fest, il festival letterario di fine estate e inizio autunno, che torna dal 15 al 17 settembre e dal 12 al 15 ottobre, nel giardino pensile del Palazzo della Provincia e nella sala conferenze della Biblioteca Comunale. Si ricomincia, Zenzero Fest torna, per dire la verità non si è mai fermato, perché grazie ai nostri off abbiamo tenuto vivo questa offerta culturale per tutto l'anno. Iniziata l'anno scorso quasi per scherzo, poi è diventata una cosa assolutamente seria. Abbiamo coinvolto tanti partner, istituzionali, associazioni, enti, che ci hanno permesso la realizzazione di questa seconda edizione. In questo Paese la cultura e la lettura sono tornati di moda. L'associazione culturale ora si era proposta proprio di offrire un'ulteriore opportunità in questa città che obiettivamente ha tanta cultura e gli autori di libri sono tornati ad essere quasi paragonati agli attori. Quindi i primi tre già sono autori notissimi, Pulixi, Veneruso e Fontana. Già loro dicono tanto. Credo che sponsorizzare la cultura e sponsorizzare questi eventi che mettono in diretto contatto i cittadini con i libri, con gli autori, sia veramente una cosa molto bella. Una presentazione davvero come si deve quella che è stata messa in calendario per sabato 16 settembre alle 18.30 quando potremo conoscere nello specifico la formazione ufficiale dell'Amen BC Servizi 2023-2024 che come sappiamo affronterà il campionato di Serie B interregionale. Tutto lo staff e ovviamente tutta la squadra saranno ospitati nello splendido scenario del loggiato vasariano, quindi davvero nel salotto buono della città. Una location d'eccezione per questo evento di inizio stagione. Alla serata saranno invitati tutti i sostenitori dei colori amaranto e ovviamente ci sarà anche la nostra emittente con le sue telecamere che ormai davvero da tanti anni segue con gioia e passione appunto il basket a retino. È tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e arrivederci.